Buongiorno, saluti, bentrovati, benvenuto qua a Storvento, grazie di questo magnifico regalo che in collaborazione con la dottoressa Budetta stavamo paventando da qualche mese, finalmente poi è arrivato. E anche grazie per la palestrita, abbiamo modo di vederlo, lo abbiamo visto sempre a Napoli, tra l'altro mi viene da chiedervi quante firme dobbiamo raccogliere per chi possa rimanere qua in maniera stabile e permanente, dottoressa? Bisogna abituarsi a collaborare con le altre istituzioni e quindi per il momento accontentarci che è tornato questo magnifico mosaico, buongiorno, che è stato un anno in giro per la Cina e mi sembra giusto che un minfeo così importante torni nel luogo d'origine. Grazie ancora.